Ciao ragazze, eccoci qui con un nuovo tutorial di make up della serie segni zodiacali oggi vi faccio vedere il make up del cancro è un make up molto più semplice rispetto a quello dell'altra volta però comunque un po' estroso con colori abbastanza forti ho deciso di farlo sul blu, è molto illuminante come vedete perché il segno del cancro è un segno d'acqua quindi ho voluto rappresentarlo così e spero che vi piaccia ecco qua il tutorial praticamente io ho già steso una base di crema su tutto il mio viso per idratare la pelle e poi vado a utilizzare la BB cream di Sephora non utilizzo fondotinta perché mi dà l'idea che appesantiscono la pelle io avendo la pelle delicata e molto chiara andare a mettere un fondotinta molte volte mi dà l'effetto cerone la BB cream si non è molto coprente però poi vado ad utilizzare una cipria compatta colorata sempre di Sephora e quindi vado ad amalgamare il tutto e a renderlo un po' più intenso se voi utilizzate il fondotinta potete benissimo utilizzare una base di fondotinta vedete infatti essendo molto chiaro vado a metterlo così tipo indiani d'america e vado a picchiettare bene con la spugnetta su tutto il viso metto con la spugnetta e non col pennello perché questa BB cream ho notato che mi fa le striature se utilizzo il pennello mentre altri fondotinta li vado ad utilizzare anche col pennello io a seconda dei prodotti utilizzo pennelli, spugnette, dipende e poi vado col correttore appunto a nascondere occhiaie, brufoletti, macchiette e poi come al solito a picchiettare con la mia spugnetta vedete tutti i brufoletti, li picchietto con le dita, con la spugnetta come andate meglio come preferite in modo da sfumarli insieme al resto del make up e poi come vi dicevo prima vado a fissare il tutto con una cipria colorata o fondotinta in polvo e in compatto come preferite e lo passo bene su tutto il viso sempre con il mio pennello grande e a setole larghe ora vado a fare un leggero contouring, non vado a matte per il contouring quindi metto questo... fa parte della paletta dei correttori e lo vado a sfumare con la spugnetta che ho utilizzato prima per il fondo e poi vado a fissare come sempre con il mio pennello ora sto cercando il primer dovete vedere che disastro che ho sul mio tavolo quando lavoro e vado a picchiettarlo sugli occhi questo primer è quello della Urban Decay quindi dà anche una base colorata dopodiché vado a sistemare le mie sopracciglia come vedete il buco dell'altra volta sulle mie sopracciglia si sta ancora rimarginando ma va già meglio adesso che è passato un po' più di tempo sono già a posto io quando faccio la ceretta se non faccio disastri a quanto pare non sono contenta perché ogni volta ho un buchetto oppure le faccio diverse qui sto ancora imparando la tecnica a meno che non le disegno bene come vi ho fatto vedere nel tutorial che vi lascio nell'info box e come sempre vado a pettinarle e a fissarle col gel che c'è nel kit ora vado a prendere la mia palette di trucchi vedete i capelli li ho raccolti in due trecce e se vi piacciono posso farvi il tutorial anche di queste qui sono fatte un po' spettinate diciamo perché ho imparato a farle da poco ma con questo caldo le stengo sempre raccolti i capelli e ora come vi ho detto ho utilizzato un pennello a setole larghe per fare una base chiara dopodiché prendo un pennello più compatto e vado a prendere un blu e vado a creare la mia riga appena sopra la piega dell'occhio quindi guardando verso il basso vedo dove finisce l'occhio cioè quando tengo gli occhi aperti dove si vede e dove non si vede infatti adesso zoom di più vedete quando apro l'occhio non si vede bene l'azzurro quindi vado a sfumarlo leggermente in fuori e anche fino all'angolo interno dell'occhio non arrivo fino all'angolo esterno dell'occhio ma mi fermo a metà e vado fuori all'esterno in modo da lasciare lo spazio diciamo e faccio la stessa cosa dall'altra parte utilizzo un pennello a setole compatte rispetto a una setole larghe perché non voglio sfumarlo troppo questo azzurro ma farlo un po' più intenso e cercare di fare una riga sì, non troppo sfumata la sfumo leggermente come vedete verso l'esterno non troppo ovviamente non abbiamo gli occhi perfettamente uguali e simmetrici quindi potete ingannare diciamo con il trucco e quindi magari andare a sfumare un po' più verso l'esterno da una parte o un po' meno dell'altra a seconda di come è fatto il nostro occhio ora vado a prendere il bianco e lo vado a picchiettare con le dita sulla palpebra mobile oppure utilizzando un pennello a setole piatte come preferite in modo da renderlo abbastanza intenso e poi sempre con lo stesso pennello di prima e lo stesso azzurro vado sulla rima inferiore esterna all'occhio non all'interno anche perché l'ombretto all'interno dell'occhio infatti come vedete qua cerco di andare il più vicino possibile ma cercate di non andare a ficarvi il pennello dentro all'occhio perché non è che faccia così bene è abbastanza fastidioso e vado come vedete fino all'angolo interno e poi fino alla fine dell'occhio ma senza uscire dall'occhio non so se è più facile da vedere che da spiegare comunque come potete capire ora sto cercando chissà che cosa ora vado a prendere i miei colori da li utilizzavo una volta per fare i make up un po' più intensi oppure i truccabimbi crazy color mi sembra che si chiamino che sono praticamente dei colori a base d'acqua quindi non sono resistenti all'acqua appunto e vanno utilizzati io in questo caso utilizzo un pennellino angolato e dovete utilizzarli con l'acqua tipo acquerelli per capirsi bagnate leggermente il pennello e il colore non mettete troppo troppa acqua diciamo perché se no il colore oltre a non essere intenso ma andrà a sbavare e vado a metterlo il più vicino possibile alle ciglia inferiori scusate ogni tanto la telecamera va fuori fuoco e non si vede bene perché ero concentrata a non mettermi il pennello nell'occhio e andate a metterlo appunto vedete non è nella rima interna ma è sempre all'esterno dopodiché vado sotto alla riga alla riga che ho fatto prima con l'azzurro vado a definire con il blu una specie di cut crease mi sembra che si chiami una specie chiamiamola così e vado a delineare da entrambe le parti più volete intenso il colore meno acqua dovete mettere ma un po' ci vuole perché se no non riuscite a prelevare il colore oppure potete farlo e poi andare a fissare ulteriormente con un blu più scuro vedete aprendo gli occhi io avendo un po' la palpebra cadente mi va a coprire un po' se avete degli occhi belli grandi non avete la palpebra cadente l'effetto verrà ancora più definito e più bello dopodiché come vedete ho preso il blush e l'ho messo sulle guance e poi vado di tanto illuminante appunto come dicevo prima essendo un segno d'acqua ho voluto dare questo effetto bagnato diciamo e vado a mettere molto illuminante sia sugli zigomi che al centro del naso sopra alle labbra e poi anche sopra le sopracciglia per dare un effetto ancora più luminoso come al solito piego le mie ciglia con il piegaciglia e poi vado a mettere il mascara il mio Miss Manga Punk come dicevo anche l'altra volta io ho le ciglia molto lunghe e molto molto folte quindi non vado a mettere le ciglia finte dal video come dico sempre non si vede molto però sono tante se volete un effetto ancora più intenso potete andare a mettere le ciglia finte potete utilizzare se ce l'avete anche un mascara blu per per richiamare appunto il colore del make up intanto io sto chiacchierando con mia mamma ora vado a mettere questa tinta labbra blu è di un set che ho preso su ebay se trovo ancora il link ve lo metto nell'info box molti colori sono molto belli e intensi mentre questo e un altro viola mi sembra questo sarebbe blu un blu violaceo e un altro viola sono un po' liquidini come vedete lo vado a mettere molte volte all'interno della confezione perché non viene bello intenso mentre le altre tinte quelle più chiare o anche il rosso viene molto più compatto già alla prima passata questo anche tende a sbavare potete anche mettere con un altro pennellino come andate meglio io dopo aver passato il rossetto ho anche passato intorno del correttore per andare a togliere ogni imperfezione e per appunto definire ancora di più le labbra ora per rendere l'effetto ancora più intenso e ancora più blu vado con il pennello di prima a setole piatte a picchiettare sulle labbra l'ombretto che è lo stesso che ho utilizzato sugli occhi in modo da renderlo meno trasparente perché come vedete lascia le striature ed è trasparente ed è un peccato perché sono delle tinte che durano molto cioè sono molto belle vi dico ho provato le altre che vengono belle compatte e sono molto belle vedete ho passato del correttore intorno alla labbra e poi l'ho sfumato leggermente e niente questo è tutto spero che questo tutorial vi sia piaciuto come sempre se avete consigli domande qualsiasi cosa lasciatemi tutto qui nei commenti e se vi è piaciuto mettete un bel mi piace ci vediamo al prossimo make up e un saluto a tutte e un bacio ah ultima cosa fatemi sapere di che segno suggero di acale siete ciao 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 ciao